Poveri cittadini di Talsano, povere attività commerciali di Talsano, di questa infelice borgata di Taranto, infelice per come è trattata. Vedete, qui proprio all'entrata, all'imbocco del corso di Corso Vittorio Emanuele, il corso principale di Talsano, vedete, il corso è completamente bloccato dai lavori di completamento della rete idrica e fognaria, lavori di autorità idrica pugliese e dell'acquedotto pugliese. Allora, ben vengano i lavori perché è giusto realizzare la rete idrica, la rete fognaria e quant'altro, però, viva Dio, una lentezza mostruosa, un proseguire, un andare avanti di proroga in proroga, con danni enormi, non solo per i cittadini che si ritrovano bloccati, ma in modo particolare per le attività commerciali. Penso, per esempio, vedete, qui abbiamo un tabacchino dove ci sono anche dei giochi, lotto, superenalotto e quant'altro, ma dico questa attività commerciale come altre subiscono dei danni enormi perché ovviamente si blocca il flusso, la circolazione dei veicoli, sì, si può arrivare al resto del corso attraverso vie traversi, attraverso una circonvalazione, ma il problema è che ovviamente chi non ha l'entrata diretta nel corso molte volte desiste, ha tutto danno delle attività commerciali. È la cosa che, ripeto, già stiamo parlando di un'ulteriore proroga ai lavori, proroghe su proroghe su proroghe, per non parlare, vedete, i rappezzi che già erano stati fatti, vedremo quindi, fra un po', tra qualche minuto, vi farò vedere anche il resto del corso e i continui lavori che ci sono stati da quest'estate, tra stop and go, tra lavori, rappezzi di asfalto, blocco del transito, da quest'estate, dalla scorsa estate, davvero gli abitanti di Talsano stanno letteralmente impazzendo. Giustamente la signora che abita qui vicino si lamenta, vero signora? Tutto bloccato. Tutto bloccato. Da mesi? Ma è mai possibile veramente un paese così grande? Uno può pulmonare, a chi ha la macchina è più comodo, però se uno non ha la macchina come si fa? Ma anche le attività commerciali? Eh, anche loro, tutto bloccato, tutto, qua via Gargiulo, là, che mai? Vedete, è tutto il corso, da mesi, da quest'estate? Da quest'estate, sì. Questo è il tratto, l'ingresso del corso di Talsano. Andiamo un po' più avanti. Mi sono spostato circa di 100 metri, proprio per farvi vedere come è ridotta parte del corso. Vi abbiamo fatto vedere il blocco, ma guardate qui, altri tratti proprio, lo vedete in fondo il blocco, ma vedete proprio in presa diretta tutti i tratti, tutti i rappezzi che si sono susseguiti nei mesi, senza che ovviamente sia avvenuto un rifacimento consono, adeguato dell'asfalto, ci si è limitati a mettere la linguetta, la striscetta di catrame senza andare a rispettare quella che è la proporzione del rifacimento della strada imposta dalla legge. guardate qui, per esempio, qui un'altra buca, un altro tratto di manto stradale saltato e vedete qui il solito lavoretto, la solita linguetta che si fa proprio quando invece andrebbero fatti, andrebbe rifatto l'asfalto in misura maggiore, se non erro, nella misura dei due terzi dell'asfalto. Guardate qui, chiaramente poi con la pioggia ovviamente sprofonda questa linguetta e si creano poi, vedete, buche su buche, ma basta che anche ci spostiamo poco poco più avanti e tutto un rappezzo, un rappezzo continuo, poi magari si faranno altri lavori e la storia sarà infinita. Mi sono spostato di 100-150 metri, 200 metri massimo dal tabacchino, fino a tutto il resto del corso e potremmo andare all'infinito. Quindi delle penalizzazioni grosse per gli abitanti di Talzano, questo perché l'amministrazione comunale non ha una idea di quello che deve essere il rifacimento di tutto il corso di Talzano e procede invece a Tentoni, ma oltretutto l'amministrazione comunale non riesce a interfacciarsi, a rapportarsi con gli enti, per cui in buona sostanza non si fa rispettare e gli enti vanno, scassano, rompono, asfaltano, ora viene l'Enel, ora viene l'Acquadotto perché c'è un'amministrazione comunale che non riesce a fare un cronoprogramma preciso, d'intesa con gli enti. Gli enti vanno e rompono a testa loro, l'amministrazione sta lì, ogni tanto rappezza, quindi non si fa rispettare dalle ditte che, come detto, non riasfaltano nella misura prevista dalla legge e questo è Talzano. Un danno enorme è per gli abitanti, ma in modo particolare un danno economico per le attività commerciali che vengono penalizzate da questi continui lavori e da questi incredibili percorsi di guerra. Grazie.